Promuovere iniziative di sensibilizzazione alla sicurezza stradale, di monitoraggio della percezione del rischio nei giovani conducenti e questo è l'obiettivo del progetto a cura dell'Accademia Pedagogica della Circolazione Italia dal titolo E una questione di fisica, la guida sicura, partito da Rutigliano e che toccherà 10 comuni dell'area metropolitana di Bari. L'iniziativa patrocinata dalla città metropolitana del capologo pugliese, da tutti i comuni aderenti e in parte finanziata dalla polizia metropolitana con i proventi delle contravvenzioni al codice della strada non solo è un corso di guida sicura specifico per neopatentati, ma un vero e proprio addestramento mentale atto ad evitare che la situazione di emergenza si verifichi. La guida sicura, proprio perché evidentemente un problema di grande attualità sono gli incidenti stradali, incidenti che riguardano i giovani e quindi facciamo comprendere loro quella che è l'essenza della velocità, che cosa significa quello che noi raccontiamo in teoria perché in teoria diciamo che al raddoppiare della velocità lo spazio che ha bisogno il veicolo per potersi arrestare aumenta di 4 volte e allora sperimentiamo sul campo che cosa significa questo, facciamo delle prove di frenata a 30, facciamo delle prove di frenata a 60 e i ragazzi prima decidono dove secondo loro si fermerà il veicolo e poi lo andiamo a verificare sul campo. Raccontiamo la prima cosa di sistemare correttamente la cintura di sicurezza e di indossare la cintura di sicurezza infatti abbiamo fatto delle prove con i ragazzi sistemati dietro, non hanno messo la cintura di sicurezza ad una velocità solo di 9-10 km orari abbiamo fatto una frenata e hanno sperimentato quello che è l'effetto dell'energia cinetica alla guida di un veicolo. Abbiamo imparato che anche a una velocità di 10 km orari l'impatto di una frenata di emergenza è molto forte. Non sapendo che dovesse inchiodare in qualsiasi momento comunque abbiamo avuto un po' paura. Consiglio ai giovani di utilizzare sempre la cintura perché come ha detto Rosita, anche a una velocità bassa, cioè a 10 km orari, comunque l'impatto è forte dalla frenata. Anche l'importanza delle cinture dietro, infatti noi stavamo seduti in sedili dietro e quando ho inchiodato ci siamo ritrovati sul sedile davanti. Ai partecipanti è stato richiesto di compilare un questionario composto da alcune informazioni socio-anagrafiche, una scheda relativa a esperienze e stili di guida, un test di personalità sul sensation seeking, il desiderio di ricercare sensazioni forti e sulle proprie abilità cognitive connesse alla guida. Questionario che sarà poi riproposto successivamente al fine di poter effettuare un confronto tra i valori rilevati prima e dopo l'intervento e valutarne conseguentemente l'efficacia. Andiamo a valutare qual è la propensione al rischio prima del corso e poi dopo aver fatto tutti gli esercizi di frenata di emergenza e quindi di distanza di sicurezza e quindi gli esercizi che riguardano la fisica dell'auto, andiamo a valutare se c'è stato effettivamente questo cambiamento, questo click nel loro cervello. A noi di APDC sta a cuore la sicurezza stradale, tant'è che in questo progetto abbiamo voluto far collaborare le autoscuole, perché le autoscuole sono riconosciute dal codice della strada, ricordo l'articolo 123 del codice della strada, come le scuole per l'educazione stradale, la formazione è chiaramente dove i conducenti si formano a fianco a istruttori qualificati. Grazie a tutti.